Roba belle le trovate ma la parte succulenta arriva adesso La parte succulenta arriva adesso Non siamo riusciti a sbloccarlo, quello a livello 80 perché ci vuole troppo, troppo tempo Quindi andiamo in garage, gestione inventario Guardate qua Abbiamo tre pacchetti di ritrovamento orari Tre pacchetti molto orari E un pacchetto di importazione Oddio Vediamo Spero di trovarci una fennec Spero di trovarci una fennec E voglio trovarci una fennec Partiamo subito? Partiamo subito chat? Partiamo subito? Allora Facciamo una robetta chat Facciamo una robetta così Vediamo se riesco a fare una robetta Ok, datemi un secondo Un secondo ma proprio un secondo Allora Arrivo Non vi posso leggere quindi aspettate un attimo raga Non vi preoccupate Allora Vediamo 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 Quale posso vedere Oddio Aspettate un secondo raga Aspettatemi un secondo Che sto facendo una cosa così Vi posso leggere meglio Vi posso leggere meglio No Allora 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 Qui No 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 Vediamo 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 Oh Eh che cazzo Allora Fatemelo aprire un attimo Che lo trovo subito Widgets Allora Notifiche Temi Superte Va bene Va bene Niente Non lo facciamo Non lo facciamo Ma Parto subito Parto subito Ah muoviti Ah mi dite pure muoviti Va bene raga Allora ci metto Ancora di più Ci metterò ancora di più Va bene Va bene Vado ancora più lento Ok Partiamo Ritrovamento raro Possiamo trovare Un ritrovamento raro Oppure un molto raro Oppure un ritrovamento di importazione Primo pacchetto 3-3 2 1 Vuoi procedere? Ovvio 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 Cosa potevo trovare io? Lo mettiamo pure sopra Per pigliare per il culo il gioco Perché ci piace Ok Secondo Ritrovamento raro Takumi Carrozzeria Molto raro Fatemi vedere un attimo Dov'è la Takumi? Ma cosa cambia da questa a questa? Cioè Fatemi capire Cosa cambia da questa a questa? Non lo so Non so cosa cambia da questa a questa Non ne ho la più parida idea Ok Terzo ritrovamento Terzo ritrovamento Apriamo Pacchetto Let's go Che schifo Ma che cazzo La pizza La pizza Ma cosa Ma Ma La pizza Equipaggia Perché facciamo finta Al gioco Prima L'abbiamo trollato Abbiamo detto che ci piaceva Una scambiabile L'altra No Ma ce l'hanno tutti La Takumi Perché la dovrei scambiare Scusa Passiamo ai ritrovamenti rari Molto rari Pacchetto viola Possiamo trovare Molto raro Di importazione O esotico Molto raro Di importazione O esotico Bella Favi Tre Due Uno Io non voglio Qua non guardo Qua non guardo Ma sapete che Non è brutto Ma fa cagare Allo stesso tempo Non è brutto Ma fa cagare un po' E questo è molto raro Ok Ok Non guardo Secondo pacchetto Terzo Ultimo pacchetto Ok Tre Due Uno Oh Ho trovato la Endo Oh Ho trovato la Endo Non ce l'avevo Ah no Adesivo animato Non ho trovato la Endo Ho trovato l'adesivo Ma non ho la macchina Ho trovato l'adesivo Ma non ho la macchina Ma la macchina Non ce l'ho Io la Endo Oh si Fighissimo l'adesivo Ma la macchina Non ce l'ho E che ci faccio Scusa Scusatemi un attimo Ma la Endo Io ce l'ho Ma io non ce l'ho La Endo Ma ragazzi Eh no Perché non mi dava equipaggia Non ce l'ho la Endo Ok Wolfix Ma io non ho la Endo Ok Cioè ho trovato Un adesivo stupendo Per la Endo Ad averla Endo Ma vaffanculo 3 2 Penultimo pacchetto Penultimo pacchetto Raga 3 2 1 Costa 5 euro Ma secondo te vado a spendere 5 euro Per quella macchina di merda Fabi Ma secondo te 3 2 1 Mercato nero Ma fanno schifo Ma che cazzo è sta Roma Ma mercato nero di che? Di tua sorella? Verde foresta Ma che schifo Ma equipaggia subito Ma di che? Ma le va sta schifezza Ma le va sta schifezza Ultimo pacchetto Ed è quello che tutti stavamo aspettando Ed è quello che tutti Bramavate E che io bramavo È quello che ci può portare alla svolta Di questa serata Non ci è andata male Non ci è andata bene In realtà ci è andata benino Abbiamo trovato comunque roba Brutta ma rara Io Non lo aprirei Io Non lo aprirei Che faccio? Lo apro? Io lo lascerei così No adesso lo apri Apri No vedi Favi dici no Favi dice non aprirlo Giusto Favi E scusa Apri apri Anzi si Vaffanculo ragazzi Ok Ok Lo apro Non ho idea di cosa io possa trovarci dentro Perché non l'ho mai aperto Ok Ok Queste sono del mercato nero Non quelle di prima Quelle nere Quelle nere sono Non lo so Quelle viola Non ne ho la più palida idea Possiamo trovare Ritrovamento di importazione come minimo Ok Come minimo Ritrovamento esotico E che fai E che fai lo butti Ritrovamento del mercato nero Che è quello che tutti speriamo Ok 3 2 E dico 3 E dico 2 E ho detto 1 No io qua Mi giro di schiena Fatemi togliere le cuffie Non sento il rumore Ah raga Non sento neanche il rumore Chiudo gli occhi Minchè io ho paura Ho paura ragazzi Chiudo gli occhi Mi giro Guardo la chat Dov'è? Dov'è? Il tablet Aspettate Ok qui c'è il tablet Vediamo la chat Strabello Che ho detto Turbo Dark matter Materia nera Tu La pennec Ma non è affanculo Ma che è sta merda Ma così è bello Perché non si vede quella roba Ma girato così Fa cagare raga Ma anche tanto Ma che merda Ma che brutto che è Cioè questa parte qui è bellissima Ma questa roba qui Ma che schifezza Ma che schifezza Ma che schifezza E niente raga Spero che questo spacchettamento Vi sia piaciuto Eh Salutate YouTube Perché finiamo su YouTube Lasciate un like Iscrivetevi al canale E mi raccomando E mi raccomando Luca l'ha gufata Luca vai a farin Luca 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 U Luca Luca Lucaksam